Dopo un anno di indagini, i carabinieri del nucleo provinciale di Pescara sono arrivati a disintegrare un'attività criminale complessa che, partendo dallo spaccio di cocaina, arrivava fino al trasferimento fraudolento di valori. Oggetto dell'attenzione investigativa, una sala scommessa di via Lago di Capestrano. Era qui che veniva messo in atto il lavaggio del denaro, entrato come provento di spaccio e uscito pulito sotto forma di vincita. Le indagini della compagnia di Pescara nel 2021 hanno documentato come un gruppo di soggetti pregiudicati abbiano monopolizzato una delle piazze di spaccio del quartiere Ranciterri di Pescara. Questo gruppo ha reinvestito i proventi dello spaccio di cocaina nel mercato lecito, quindi ha acquistato una sala scommessa e anche un altro esercizio commerciale che però non è stato sottoposto a sequestro, una macelleria. Un'autovettura, tre motoveicoli e ha di fatto ripulito i capitali illeciti provento dello spaccio di cocaina. Abbiamo documentato come sui vari conti gioco facenti capo a questa agenzia di scommesse venissero movimentati mensilmente varie centinaia di migliaia di euro. Quindi ciò serve al pregiudicato di fatto senza un'occupazione fissa, serve a dimostrare il possesso di capitali che non potrebbe dimostrare al fisco. Con vincite e fittizie? Con vincite e fittizie, sì. Magari vincite non conseguite dallo stesso ma usate come pezza d'appoggio per giustificare appunto il capitale accumulato. 13 indagati di cui 5 raggiunti da misure cautelari, 3 in carcere, se non ho capito male, uomini e 2 donne invece? Allora sono 13 indagati come lei ha detto bene, 3 persone sono state attinte da custodia cautelare in carcere ed erano i principali attori per quanto riguarda il reato di spaccio di cocaina. Dopodiché le due donne sono state destinatari di un'altra misura cautelare sempre personale, gli altri risultano indagati a piede libero. Gli arresti sono stati eseguiti anche fuori provincia perché momentaneamente queste persone si trovavano lì ma sono tutti di Pescara. Famiglie note per così dire? Sì, i principali indagati sono dei pregiudicati che hanno già anche condanne almeno in primo grado per reati in materia di stupevacenti. La moglie di uno dei principali indagati, attinta anche ella da misura cautelare personale, fino ad oggi ha percepito il ridice di cittadinanza.